Buongiorno a tutti, sono Patrizia Giacchero, presidente del Galle Scartone Valli Valdesi, uno dei 14 Galle del Piemonte, che si occupa di sviluppo dei territori montani, dei territori disagiati, in particolare sul territorio della parte della Val Sangone, Valle Susa, Valle Olimpiche, Val Cisone Germanasca e Val Bellice. Diciamo che io ho vissuto prima come sindaco, poi come presidente del Galle Scartone dal 2009 in avanti il progressivo svuotamento di queste aree a livello di popolazione da un lato e dall'altro il depauperamento sia da un lato di quelli che erano i siti tradizionali per l'occupazione, quindi la chiusura di molte fabbriche, sia il depauperamento dei territori di servizi, quindi ad esempio banalmente presidi di primo soccorso, uffici postali, sportelli bancari che negli ultimi anni hanno chiuso in molte aree marginali. dall'altro canto invece ho visto con piacere che c'è un grande interesse per il ripopolamento di queste aree da parte soprattutto di soggetti giovani o in parte perché sono soggetti che tornano alle loro radici o perché sono soggetti provenienti dall'area metropolitana che sono interessati o hanno necessità di cambiare vita o perché sono migranti che arrivano per i più svariati motivi ai nostri territori. molti soggetti partecipano ai nostri bandi laddove è possibile, tant'è vero che ovviamente come molti dei nostri colleghi GAL abbiamo un esubero di richieste rispetto a quelle che sono le nostre risorse e questo sicuramente è un trend positivo. quindi il fatto che poi a questo si aggiungano dei progetti come Matilde che vadano ad aiutare il diciamo la controtendenza quindi il ripopolamento di queste aree è un aspetto molto positivo perché noi abbiamo assolutamente bisogno di fare rivivere la montagna non sopravvivere la montagna. quello che vorrei sottolineare è che secondo me parallelamente a questi progetti di ripopolamento bisogna, c'è molto da lavorare e per quello che possiamo noi lo facciamo per rendere questi territori accoglienti. Accogliente per me è un concetto molto lato nel senso che va oltre diciamo l'accoglienza della comunità con cui tu che arrivi da fuori ti vai a raffrontare che comunque è un passaggio necessario perché sappiamo benissimo che vivere alla montagna non è non è facile, ci sono molti aspetti sconosciuti a chi non arriva da lì e che vanno comunque vanno comunque trasmessi ma io direi che per rendere accogliente questo ambiente è necessario che ci siano i servizi di base per aiutare le persone che hanno la volontà di andarsi a reinsediare, aiutare queste persone negli aspetti basilari della loro vita perché non si può e questo è un'osservazione che faccio anche come cittadino perché la vivo giustamente tutti i giorni dover percorrere troppi chilometri per trovare questi servizi quindi secondo me bisogna ristudiare innovare portare in forme diverse gli stessi servizi o parte degli stessi servizi che già esistevano anche diciamo con la collaborazione tra il pubblico e il privato però chi va a vivere queste queste aree ha bisogno di tutto questo perché altrimenti l'impatto sarà negativo e giudicherà il territorio non accogliente ha bisogno di trovare una rete di comunicazione valida, ha bisogno di trovare la banda larga perché ho comunque una connessione internet funzionante, non decente perché oggi stiamo lavorando tutti in questo modo ha bisogno di avere dei trasporti che gli permettano di accedere in modo agevole ha bisogno di essere supportato quando ha problemi con dei bambini piccoli oppure la gestione dei genitori anziani ha banalmente bisogno di poter accedere agevolmente a uno sportello banco ma dovunque questo sia in qualunque modalità questo sia costituito o a uno sportello postale quindi io credo fondamentalmente che nelle politiche così parallele e correlate ai progetti di ripopolamento sia un dovere di tutti gli operatori, GAL compresi ed è quello che in parte stiamo facendo, pensare proprio anche a questi aspetti Grazie! Grazie!